Amici di calciomercato.com bentornati qui all'Ata Hotel Executive, facciamo il punto sul calciomercato in casa Inter. È arrivata in mattinata l'ufficialità per quello che riguarda il ritorno in erazzurro di Davide Santon. L'Inter che però in questo momento sta continuando a lavorare sul centrocampo, in particolare su Cristian Ledesma, il centrocampista della Lazio. La Lazio ha chiesto in cambio Kuzmanovic ai nerazzurri, per ora la risposta è negativa. Lazio che tra l'altro sta continuando a lavorare anche sul arrivo di Lodi, il centrocampista ormai svincolato dal Parma. Per la difesa invece? L'Inter lavora anche per la difesa, c'è la possibilità di tornare in erazzurro per Orlando, dal Porto si parla di presido con diritto di riscatto. Chiaramente il Porto però cerca di forzare per l'obbligo. C'è anche un clamoroso scambio in essere tra Palermo e Chievo per quanto riguarda la porta. Sorrentino e Bardi, chiaramente l'Inter alla fine è essendo proprietaria del cartellino di Bardi. Eviteremo aggiornati per ulteriori trattative.